Il grande ex Robertone Ogonseue ha colpito, ma nella porta sbagliata. Un'altra storia di calcio con il Prato che centra la seconda vittoria stagionale lasciando l'ultimo posto in classifica grazie ad uno sfortunato autogol del giocatore dell'Olbia che per anni ha fatto gioire e disperare i tifosi lanieri. Il Prato chiude una settimana con i fiocchi, condita da due vittorie consecutive, prima in Coppa Italia, poi in campionato, tra l'altro senza subire reti. Che si è scattata la scintilla? Intanto da Pontedera è arrivata un'infornata di autostima per la squadra di Pasquale Catalano. Il Prato comincia forte con Seminara che fa la barba al palo. Replica l'Olbia con Ogonseue che di testa impegna severamente Alastra. Partita gradevole, Fantacci ci prova dalla distanza senza colpo ferire. Poco dopo la replica dei Sardi con Piredda, ma Alastra è sempre attento. L'Olbia ci prova con Bianciu dalla distanza, ma Alastra è davvero in versione saracinesca. Nella ripresa il Prato alza il ritmo. Piscitella crossa per Martinelli che di testa non è preciso. L'Olbia replica di rimessa con Alastra, versione kamikaze che anticipa Ogonseue. Al ventunesmo della ripresa l'episodio che decide la partita. Liurni su punizione, Ogonseue sbaglia porta e mette alle spalle di Aresti segnando il più classico degli autogol. Il Prato esulta, l'Olbia cerca disperatamente il pareggio, ma la squadra di Pasquale Catalano riesce a resistere e mette in carniere la seconda vittoria in campionato. Un'affermazione fondamentale con tanti ringraziamenti a Robertonio Gonseue, forse un ex con il cuore un po' biancazzurro.